Come una finale è la cornice che circonda Fidelisandria Messina, partita in programma domenica prossima al Degli Olivi, che a quattro giornate dalla fine della regular season può valere oro per la squadra del duo Di Leo di Bari. Di fronte ci sarà un avversario distante sette punti e che oggi rappresenta le colonne d'Ercole della zona play-out. Inutile sottolineare allora come il club siciliano sia il target da inseguire per tenere alla propria portata la possibilità di giocarsi la salvezza sul campo negli spareggi. Quei sette punti di distacco oggi costituiscono un margine ancora sufficiente per far sì che i play-out si giochino. Oltre gli otto infatti da regolamento la quintultima è direttamente salva. La base di ripartenza per la Fidelis è nei sei punti totalizzati nelle ultime quattro partite di campionato. Utili per comporre la migliore striscia positiva messa insieme sin qui da Casoli e Soci, i pareggi contro Latina, Palermo e Bari sono stati ulteriormente avvalorati dall'1-0 sulla Paganese nell'ultima apparizione casalinga. L'altro punto fermo è il calore del pubblico. Gli oltre 1.500 tifosi bianco-azzurri visti al San Nicola nello scorso turno, ai 967 presenti nel settore ospiti, vanno sommati infatti gli appassionati che avevano acquistato un ticket in tribuna est e nella ovest. Sono chiamati a raccolta dalla società attraverso la giornata bianco-azzurra, la seconda e ultima della stagione. Prezzi popolari per tutti, con i soli abbonati che hanno rinnovato la tessera quest'anno che potranno accedere allo stadio attraverso la loro sottoscrizione e senza altri esborsi. L'obiettivo della Fidelis sarà quello di dare ulteriore sostanza a un cammino casalingo che si è fatto più rassicurante nel girone di ritorno, con il fattore campo che ora inizia a dare i suoi primi frutti e a una difesa diventata più solida nell'ultimo mese, due reti al passivo negli ultimi 360 minuti di campionato, cercando di approfittare di un avversario sì rilanciato dalla vittoria casalinga sul Latina, ma che nelle ultime quattro giornate ha totalizzato quattro punti e che a fronte di un attacco molto prolifico propone la peggior difesa del torneo, insieme alla Paganese. Tante componenti per 90 minuti che possono valere una stagione. Per entrambe, ecco come risponde alla domanda Marcello Pitino, DS del Messina ed ex della partita. Moltissime difficoltà, difficoltà proprio per ciò che può essere la svolta del risultato finale. È normale per l'Andria, se dovesse perdere, si allontana di molto quello che può essere la possibilità dei play-out. Noi, ripeto, per noi è un play-out anticipato, il resto farebbe rimanere tutto com'è e poi darebbe il risponso alle ultime tre partite. Quindi diciamo che Ceda per noi è una gara molto importante, importantissima, fondamentale, come lo è ancora di più per l'Andria.